Un lungo elenco di reati. Avrebbe torturato, seviziato e stuprato i migranti rinchiusi nella safe house prima che partissero verso le coste italiane. La polizia di Agrigento ha affermato e il GIP del Tribunale Francesco Provenzano ha già convalidato l'arresto a un ventenne ganese, Eric Acom Sam, ritenuto trafficante di uomini. Nei giorni scorsi l'uomo sbarcato il 5 marzo a Lampedusa è stato sottratto da un tentativo di linciaggio da parte di alcuni immigrati che lo avevano riconosciuto come responsabile delle torture subite in Libia. Dal racconto dei migranti è emerso che venivano sottoposti a sevizie anche in diretta telefonica con i propri parenti ai quali veniva richiesto il pagamento di un riscatto per porre fine alle sofferenze dei loro cari. I pubblici ministeri Calogero Ferrara e Giorgia Spiri della direzione del settore antimafia di Palermo che è guidata dal procuratore Francesco Lovoi hanno emesso il provvedimento di fermo che è stato eseguito dalla squadra mobile di Agrigento coordinata da Giovanni Minardi. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla tratta, al sequestro di persona, alla violenza sessuale, all'omicidio aggravato e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. DDA e squadra mobile, per alcuni reati che si sono consumati interamente all'estero, ha potuto procedere sulla base di una richiesta del ministro della giustizia. Ogni volta che dovevo telefonare a casa e il racconto di alcuni migranti mi legava e mi faceva sdraiare per terra con i piedi in sospensione e così immobilizzato mi colpiva ripetutamente e violentemente con un tubo di gomma in tutte le parti del corpo e in special modo nelle piante dei piedi, tanto da rendermi quasi impossibile di camminare. Spesso collegava degli elettrodi alla mia lingua per farmi scaricare addosso la corrente elettrica ed ancora porto ancora addosso i segni delle violenze fisiche subite, in particolare delle ustioni dovute a dell'acqua bollente che mi veniva versata addosso. Grazie. Grazie.